eccoci qua con la nuova uscita la numero 8 di storie in miniatura distribuita vi ricordo sempre da Hachette numero 8 come vi dicevo due settimane fa le avventure di Peter Pan come sempre niente di nuovo davanti di dietro confermano che tra 14 giorni in edicolo la nona uscita la sirenetta sempre a 5 euro e 99 quindi il piano dell'opera è ancora fedele perché magari ci possono essere dei cambiamenti ma ora come ora è assolutamente pari pari a quello che c'è nel sito di Hachette andiamo a vedere questo ottavo libricino veloce veloce ormai siamo abituati a spacchettare ed eccoci qua con il ottavo libricino già da qua vediamo che i colori sono splendidi e rispecchiano naturalmente i colori di Peter Pan quindi stile legno foresta quindi tanta tanta roba e andiamo a vedere questo libricino allora vediamo un po non dovrebbero deludere assolutamente neanche questa volta quindi Peter Pan l'isola che non c'è vedremo se ci sono più immagini che testo e già iniziamo con una fresetta è un'immagine grande quindi potrebbero essere il capitano uncino la storia bene o male la conoscete tutti il buon Peter Londra mi sa che siamo un po livello della carica dei 101 tante immagini e poco testo cosa che non dispiace assolutamente perché vi confermo che le stampe sono fatte molto molto bene e la stampa e la carta soprattutto che di questi giorni non è scontato trova una qualità così di stampa diciamo che c'è abbastanza che c'è abbastanza anche testo dai c'è un buon abbinamento assolutamente trilli famoso incontro dell'ombra di Peter Peter e Wendy quando prendono e spiccano il volo anche questa immagine di Peter è molto molto bella stampata molto bene fantastico volo sui cieli di Londra non poteva essere a doppia pagina questa bellissima immagine che rispecchia anche il campanile o l'orologio in questo caso anche qua ci giochiamo una bellissima immagine a doppia pagina sull'arrivo dell'isola che non c'è diciamo che è un buon mix dai c'è abbastanza testo ma anche abbastanza immagine il famoso capitano uncino e spugna capitano uncino e spugna ancora capitano uncino il famoso e forse il personaggio che io adoro di più di questo classico coccodrillo quello che ha mangiato spoiler per chi non lo sapesse la mano del buon capitano anche qua i colori sono veramente stampati molto molto bene molto molto bene molto molto bene la fuga trilli i bambini fuggiti di casa mi pare che di censure non ce ne fossero non ce ne sono state fatte le sirene che adesso vedendo anche le sirene in questa immagine è il preludio di quello che arriverà più avanti perché l'estetica è proprio di quello della sirenetta sono esattamente identiche dovrebbero mancare vediamo se ci sono gli indiani capitano uncino ci sono gli indiani ok che non si sa mai in questi tempi ve lo ripeto tutto è possibile che venga tagliato cucito eliminato bellissima questa immagine anche se dovrebbe essere il seguito di questa mai messa di qua potevano fare una cosa inversa eh sarebbe stata molto molto più interessante capo tribù degli indiani il veliero di capitano uncino trelli con la mappa il famoso oro rosso il capitano uncino tante tante immagini e sarò ripetitivo da inizio collezione ma sono veramente fatti molto bene che non è scontato a trovare una cosa fatta bene in queste dimensioni il racconto di peter poi c'è il viaggio tra i bambini sperduti e arriviamo verso il finale il famoso scontro finale tra capitano uncino wendy e peter pan recuperatevi il classico assolutamente e recuperatevi anche le live che abbiamo fatto sui classici disney o i video che trovate anche quello di peter pan ma con il buon nunziante combattimento che un po' rispecchia effettivamente quello dei pirati carabie adesso rivedendolo un po' rispecchia altre immagini che è vediamo se c'è l'altra parte con capitano uncino o no capitano uncino sconfitto e fugge col cocodrillo finale peter pan prese il comando della nave poi esiste anche se non ricordo male un sequel del classico disney che era uscito solamente in un video e se non ricordo male si chiamava ritorno all'isola che non c'è carino non a livelli del classico naturalmente come tutti i sequel della disney però si fa vedere e siamo arrivati alla fine con questo bellissimo saluto di peter pan quindi wendy gianni e michelle rimasero lungo alla finestra poi vi consiglio naturalmente hook capitano uncino che non è un sequel disney ma è praticamente il sequel del classico disney quello con robbie william girato steven spilber quindi vediamo le pagine ma non ci dovrebbero essere novità 190 191 e basta allora andiamo come sempre a recuperare gli altri libricini eccoli qua naturalmente in ordine di classico disney e vi ricordo che nel canale vedrete solamente i video sui libricini dei classici disney quindi non tutta la colana che sono 80 numeri ma solamente quelli con riferimento al classico disney quindi per il momento sarà sempre in linea perché settimana prossima tra due settimane scusate arriverà la sirenetta noi dovevamo andare a vedere il numero di pagine allora 191 prima dei crediti 191 andiamo a vedere con quello delle leone che sono tutti uguali 189 190 191 quindi niente da fare sono perfettamente uguali anche da quel lato quindi Peter Pan lo mettiamo dentro alla sua bellissima custodia naturalmente anche qua cambia l'immagine custodia in cartone naturalmente però rende ancora gli effetti se non sbaglio la mia memoria se vanno in ordine di uscita di classico dovrebbe andare dopo cenerentola e prima della carica dei 101 mettiamoli anche così che fa sempre bello vederli Biancaneve Bambi Cenerentola Peter Pan a carica dei 101 il libro della giungla è Aladin il Re Leone guardate che belli che stanno arrivando veramente in tanti siamo già a otto numeri tra quattoreci giorni il nono numero della sirenetta quindi sta veramente arrivando una bellissima bellissima libreria a casa di questi piccoli grandi cappolavori che sono i classici Disney li mostriamo anche da lato ancora più bibliotesco chiamiamolo così quindi dalla parte di qua con i loro segnalibri che sbuccano fuori e vedete che i colori ora come ora non c'è un colore che viene ricopiato in nessun volume né nelle custodie cambia qualche tonalità ma neanche nella costina del libro bene ragazzi ci vediamo naturalmente con un altro video domenica prossima e tra quattoreci giorni con il nuovo video per quanto riguarda i mini libro dei Hachette in descrizione trovate anche il link se volete abbonarvi con i fantastici regali che trovate e come dicevo la sirenetta il prossimo video per quanto riguarda i classici in miniatura io come sempre vi ringrazio per essere stati qua a vedere questo video naturalmente vi chiedo anche un like che non vi costa niente come sempre però per noi è stra stra importante grazie a tutti e naturalmente ci vediamo in un prossimo video ciao